Prima online, a febbraio, forse dal V. È un pitti sempre più costretto a scansare ostacoli, quello che sulla carta è fissato tra il 12 e il 14 gennaio e che invece probabilmente slitterà oltre a cambiare pelle. La settimana della moda italiana, che tradizionalmente parte ai primi di gennaio da Firenze e prosegue a Milano, traballa davanti alla forza del contagio alle disposizioni del governo per limitarne la diffusione. E così si fa strada a un'ipotesi, quella di una doppia data ed una doppia tipologia espositiva. Non è escluso infatti che se le cose miglioreranno dal punto di vista sanitario, si potrebbe arrivare ad uno slittamento della settimana della moda in presenza a febbraio, con un precedente lancio delle collezioni online sulla piattaforma Pitti Connect. La rappresentazione fisica della fiera è un appuntamento ineludibile, dice l'amministratore delegato di Pitti, Raffaello Napoleone. Per i contatti reali che si instaurano tra buyers ed espositori. Ma programmarla oggi con certezza è impossibile, in pochi giorni, solo qui in Toscana. Siamo passati dal codice giallo a quello arancione, con limitazioni di spostamenti e di incontri, che tutti conosciamo.